Buongiorno signore, le piace molto il colore blu, leggero così? Blu, dipinto di blu? E con l'interno è anche blu, e con il nero... Eh, lei va più vicino all'interno, così si vede meglio. Ah sì, anche l'interno è tutto blu. Eh, è un bel colore. Lomborghini, quel modello è? Grazie. 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 Grazie.